Le associazioni di categoria hanno subito derito a una mancia in più, il gioco di editoriale Libertà che valorizza il lavoro di parrucchieri, baristi e commessi. E' proprio questo il motivo per il quale è deciso di partecipare anche Confesercenti Piacenza. Abbiamo derito convintamente a questo nuovo gioco che ci condurrà per tutta l'estate perché lo riteniamo molto utile per valorizzare le categorie delle attività che noi rappresentiamo. E' un modo per far emergere anche le persone che ci sono dietro ai banconi di un negozio, di un bar o l'estetista, il parrucchiere. E' un modo anche per valorizzare le attività fondamentali per il territorio. E' un modo anche per valorizzare il rapporto che c'è tra cliente e associato. Quanto è importante e quanto è diventato forse ancora di più dopo l'emergenza Covid? Questo è un motivo ulteriore perché abbiamo capito, soprattutto dopo l'esperienza di Covid, quanto siano importanti i piccoli esercizi di vicinato, i piccoli negozi, le attività artigianali. Dove c'è un rapporto umano, dove c'è fiducia, dove c'è anche la possibilità di toccare e vedere i prodotti. E quindi questo è un valore aggiunto che va preservato con grande energia. Certamente sono tutte categorie importanti per il nostro sistema, lo sono a Piacenza, lo sono a livello anche nazionale e hanno rappresentato un po' l'ossottura dell'associazione. Noi quest'anno festeggiamo i 50 anni, prima c'erano attività che magari oggi non ci sono più, ma è proprio bello anche trovare attività nuove che hanno spazio e che trovano l'opportunità di un lavoro. Grazie